Sostenere i giovani che hanno necessità di perfezionare le loro competenze lavorative è l'obiettivo del nuovo avviso del programma Garanzia Giovani pubblicato sul sito selfie.regione.abruzzo.it. Così Regione Abruzzo attraverso il programma nazionale Garanzia Giovani intende finanziare la formazione dei ragazzi appena assunti, contemperando le esigenze di chi deve fare ingresso nel mondo del lavoro e dei suoi datori di lavoro che richiedono una formazione specifica sulle mansioni lavorative dei neoassunti. I destinatari finali dell'avviso sono i giovani già iscritti a Garanzia Giovani titolari di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di 12 mesi. Il percorso formativo deve avere una durata variabile tra le 40 e le 150 ore. Gli organismi di formazione possono presentare le proposte formative fino al 31 gennaio 2022. Una misura sicuramente importante destinata ai giovani per cercare di perfezionare e affinare la loro preparazione affinché possono entrare nel mondo del lavoro. Ha una dubbio importanza questa misura che è una dote finanziaria iniziale di un milione e due ma che sicuramente aumenteremo. Dicevo importante sia per i giovani ma anche e soprattutto per i datori di lavoro perché spesso hanno la possibilità di assumere ma mancano dei profili con delle particolari caratteristiche. Quindi noi con la formazione, con questo percorso che facciamo avviare permettiamo appunto a tanti giovani di perfezionarsi. Quindi un momento molto importante perché cercheremo di aiutarli, tanti giovani in difficoltà, una misura che vale a 18-29 anni soprattutto in questo particolare momento della pandemia. Sicuramente c'è molta richiesta, i giovani hanno la volontà di migliorare la loro capacità e sicuramente noi cercheremo di trovare ogni soluzione affinché possano accedere al lavoro. In futuro ci saranno altre misure che rientrano anche nell'FSE che vanno a incentivare assunzioni anche agli over 50, alle donne, alle persone disabili. Momenti molto particolari ma noi dobbiamo essere pronti a superare questa pandemia e far ripartire l'economia che si rende in difficoltà.